l'entrata in campo per la finale alla categoria allievi 1920 lanciano calcio mariotano a tessa la mariotano a tessa con la classica divisa blu rossa mentre 1920 con la tenuta gialla adesso un attimo di attenzione ascoltiamo l'indo nazionale grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti lanciano 1920 mariotano a tessa